Sulle orme dell'onorevole Alfonso Rubilli, i grandi benefattori della casa di ricovero. Dal libro realizzato dallo storico Andrea Massaro, emerge la grande generosità e l'umanità degli avellinesi ispirati dal pensiero del fondatore e l'avvocato Alfonso Rubilli. Sono ormai circa 80 anni che la casa di riposo offre i suoi servizi agli anziani di questa città, avendo un'attenzione particolare per i più bisognosi. E' stato un gesto di riconoscenza verso la memoria di questo grande avellinese. A suo tempo il velfar non era ancora attuato oppure veniva così praticato dalle associazioni religiose, ma con molta difficoltà. E quindi l'onorevole Rubilli pensò di raccogliere un'istituzione che potesse dare un sollievo alle persone sole, specialmente le persone più povere della città. E impegnò tutte le sue sostanze ricavate dall'attività di parlamentare, dalla grandissima attività di grande avvocato che è stato nel foro di Avellino. I cittadini di Avellino chiudevano le botteghe per andare a sentirle nelle aule del tribunale. Ha investito questa somma per realizzare questa casa. Ed è stato subito imitato da tantissimi altri cittadini della provincia, di altre zone. E' stato questo un po' il mio lavoro di ricerca, trovare le persone che hanno seguito proprio le orbe dell'onorevole Rubilli. E ne abbiamo trovato tante e tante e tante che hanno consentito la sopravvivenza di quest'opera che ancora oggi svolge la sua missione a favore delle persone sole, delle persone bisognose.